Si alza ancora il livello di scontro istituzionale sulla gestione della sanità calabrese. Dopo la durissima lettera inviata al commissario Scura per chiedere la sospensione degli ultimi atti del suo ufficio, il governatore Oliverio si è rivolto direttamente al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il presidente ha informato il ministero della missiva precedente inviata a Scura e ha chiesto un immediato intervento per arrivare a sospendere ogni attività del commissario in attesa delle determinazioni del Consiglio dei Ministri. La circostanza singolare però è che a fronte del grande polverone sollevato in Calabria a Roma pare esserci soltanto una minima percezione dello stato dell'arte. Anzi, quello che è balzato agli occhi al ministero è stato lo sgarbo istituzionale messo in atto dal governatore con la seconda lettera. Il ministro Lorenzin, infatti, sarebbe venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Oliverio soltanto attraverso le agenzie di stampa. Probabilmente Oliverio ha provato a forzare la mano proprio perché non è del tutto convinto di trovare dalla Lorenzin la sponda che in un primo momento aveva ipotizzato. Esponenti di primo piano del nuovo centrodestra fanno trapelare, infatti, che il ministro sarebbe dalla parte di Scura e del suo vice Andrea Urbani, per altra espressione del partito di Alfano. Se a ciò si aggiunge poi che il premier Gentiloni, presidente del Consiglio dei Ministri a breve scadenza, potrebbe non avere alcun interesse a cambiare le cose in Calabria, si capisce il motivo per il quale Oliverio sta alzando il livello di scontro istituzionale. Tutte circostanze che sembrano in linea con la durissima presa di posizione di Massimo Scura, che stavolta ha deciso di replicare al governatore dicendosi sbigottito per una incomprensibile presa di posizione che sarebbe basata su informazioni fuorvianti. Riccardo Tripepi per la CNews24